Se per caso, per caso, per caso non sarà, vincessero loro, avremmo pane e tasse, tasse e pane. Oltre a una certa quota di reddito, l'uomo diventa più infelice. E allora, siccome noi dobbiamo cercare la felicità, dobbiamo tenere conto di questi aspetti. A luglio Prodi ha detto, sono il mago telma dell'economia, ho messo a posto tutto, ma che cosa vuole? Ma stia zitto, si vergogna. Se sono vere le cose di cui si parla, siamo in presenza di una violazione del programma, con il quale tutti quanti siamo andati alle elezioni. Alzati che si sta alzando la canzone popolare